discorso all'università di howard 8 giugno 1978 sono veramente felice di essere qui con voi in occasione del 327esimo anniversario della nascita di questa antica e illustre università i miei complimenti e i miei migliori auguri a tutti i nuovi laureati motto di howard è veritas molti di voi hanno già scoperto e altri lo scopriranno nel corso della loro vita che la verità ci sfugge non appena iniziamo a vivere sotto la nostra bandiera lasciandoci per tutto il tempo l'illusione che stiamo continuando a esercitarla questo è fonte di grande discordia inoltre raramente la verità è dolce è quasi sempre amara una parte di amara verità sarà anche nel mio discorso di oggi che offro come amico e non come avversario tre anni fa negli stati uniti ho detto certe cose che sono state respinte e sono apparse inaccettabili oggi tuttavia molte persone sono d'accordo con quanto ho detto allora la divisione nel mondo di oggi è percepibile anche con uno sguardo frettoloso chiunque facilmente identifica due potenze nel mondo ciascuna in grado di distruggere completamente l'altra tuttavia troppo spesso la comprensione della divisione è limitata a questo concetto politico illusione secondo la quale può essere abolito il pericolo attraverso il successo dei negoziati diplomatici o raggiungendo un equilibrio delle forze armate la verità è che la divisione è più profonda e che le spaccature sono più numerose di quanto si può vedere a prima vista queste divisioni profonde possono procurare il pericolo di un disastro per tutti noi ricordando la verità antica per cui un regno in questo caso la nostra terra non può continuare a vivere se è diviso in se stesso mondo contemporaneo esiste oggi il concetto di terzo mondo abbiamo così tre mondi tuttavia senza dubbio il loro numero è ancora maggiore sono soltanto mondi troppo lontani per essere percepiti ogni cultura autonoma antica e profondamente radicata soprattutto se si è diffusa su una vasta parte della superficie della terra costituisce un mondo indipendente pieno di rebus e di sorprese per il pensiero occidentale come minimo dobbiamo includere in questa categoria la cina l'india il mondo musulmano e l'africa se accettiamo di accostare anche le ultime due per l'uniformità di visione per mille anni la russia appartenne a una tale logica anche se il pensiero occidentale ha sistematicamente commesso l'errore di negare il suo carattere particolare e quindi non lo ha mai capito così come oggi l'occidente non conosce ancora a fondo la russia comunista inoltre può essere che in anni passati il giappone sia sempre più diventato un far west ma io non voglio giudicare e israele credo non dovrebbe essere considerato come parte dell'occidente anche solo per il fatto decisivo del sistema stato fondamentalmente legato alla religione per un tempo relativamente breve il piccolo mondo dell'europa moderna ha conquistato colonie in tutto il mondo non solo senza trovare qualsiasi resistenza reale ma anche con disprezzo dei valori della vita nell'approccio con i popoli sottomessi tutto sembrava rappresentare un successo travolgente senza limiti geografici la società occidentale si espandeva come trionfo dell'indipendenza dell'uomo e del suo potere ma all'improvviso il ventesimo secolo ha dimostrato con chiarezza la fragilità della società abbiamo visto che le conquiste sono state effimere e precarie e questo a sua volta ha dimostrato i difetti della visione del mondo occidentale che ha generato queste conquiste le relazioni con il mondo ex colonialista oro sono caratterizzate dall'estremo opposto e il mondo occidentale presenta spesso un eccesso di attenzione essendo comunque ancora difficile stimare le dimensioni del conto che gli ex paesi coloniali presenteranno all'occidente ed essendo anche difficile prevedere se la rinuncia non solo delle sue ultime colonie ma di tutto ciò che in esse possiede sarà sufficiente all'occidente per pagare questo debito convergenza ma la persistente cecità che deriva dalla presunta superiorità occidentale continua a far mantenere la convinzione per cui tutte le vaste regioni del nostro pianeta dovrebbero sviluppare e maturare il livello del sistema occidentale contemporaneo il meglio in teoria e il più attraente in pratica si pensa che tutti gli altri mondi siano temporaneamente impediti dai leader malvagi o da gravi crisi o dalle loro barbarie incomprensioni di perseguire la democrazia pluralistica occidentale e di adottare il modo di vita occidentale i paesi sono così giudicati sul merito del loro progresso in questa direzione ma in realtà tale concezione è un frutto della incomprensione occidentale dell'essenza degli altri mondi ed è il risultato sbagliato di voler misurare tutto con il metro occidentale l'immagine reale dello sviluppo del nostro pianeta ha poco a che vedere con tutto questo la teoria della convergenza tra i principali paesi occidentali e l'unione sovietica ha partorito l'angoscia di un mondo diviso è una teoria che trascura il fatto che questi mondi non stanno affatto evolvendosi l'uno verso l'altro dimenticando inoltre il rischio che possa esservi trasformazione senza violenza inoltre convergenza significa inevitabilmente accettazione dei difetti di un altro e questo difficilmente può creare soddisfazione per chiunque se oggi mi rivolgo a un pubblico interessato a una analisi del mio paese è per verificare se e come il modello globale di spaccature del mondo possa essere derivato dalle negatività dell'est considerando che il mio esilio forzato in occidente dura da quattro anni e poiché parlo adesso a un pubblico occidentale credo che possa essere di maggiore interesse concentrarsi su alcuni aspetti dell'occidente contemporaneo così come li vedo il declino del coraggio il declino del coraggio è la caratteristica più sorprendente che un osservatore può oggi riscontrare in occidente il mondo occidentale ha perso il suo coraggio civile sia nel suo insieme che separatamente in ogni paese in ogni governo in ogni partito politico e naturalmente nell'ambito delle nazioni unite il declino del coraggio è particolarmente evidente tra le elite intellettuali generando l'impressione di una perdita di coraggio dell'intera società vi sono ancora molte persone coraggiose ma non hanno alcuna determinante influenza sulla vita pubblica funzionari politici e classi intellettuali presentano questa caratteristica che si concretizza in passività e dubbi nelle loro azioni e nelle loro dichiarazioni e ancora di più nel loro egoistico considerare razionalmente come realistico ragionevole intellettualmente e persino moralmente giustificato il poter basare le politiche dello stato sulla debolezza e sulla vigliaccheria e questo declino del coraggio a volte raggiunge quella che potrebbe essere definita come una mancanza di carattere sottolineata quasi con ironia da occasionali scoppi di audacia e di rigidità da parte degli stessi funzionali politici quando trattano con governi deboli con paesi privi di sostegno o con correnti perdenti che chiaramente non saranno in grado di offrire alcuna resistenza si hanno invece silenzio e paralisi quando si tratta di affrontare governi potenti e forze minacciose con aggressori e terroristi internazionali è necessario sottolineare che fin dai tempi antichi il declino del coraggio è stato considerato il primo sintomo della fine? benessere quando si formarono gli stati occidentali moderni è stato proclamato come un principio il fatto che i governi siano destinati al servizio dell'uomo e che l'uomo vive con l'obiettivo di essere libero di perseguire la felicità si vedano ad esempio la dichiarazione di indipendenza americana finalmente nel corso dei decenni passati il progresso tecnico e sociale ha consentito la realizzazione di tali aspirazioni lo stato sociale ad ogni cittadino è stata concessa la libertà desiderata e i beni materiali in quantità e qualità tali da garantire in teoria il raggiungimento della felicità nel senso profondo di questa parola entrata nella vita durante questi decenni senza perdere significato nel processo tuttavia un dettaglio psicologico è stato trascurato il costante desiderio di avere sempre più beni e una vita sempre migliore e che determina la lotta a questo scopo per molti occidentali che si scontrano con una condizione di preoccupazione e talvolta persino di depressione anche se è consuetudine nascondere accuratamente tali sentimenti questa tendenza molto attiva e forte genera dominio sul pensiero umano in generale e impedisce un aperto e libero sviluppo spirituale è stata garantita l'indipendenza dell'individuo da molti tipi di pressione dello stato alla maggior parte delle persone è stato concesso un benessere che i loro padri e nonni non avrebbero mai potuto immaginare è diventato possibile educare i giovani secondo questi ideali e di prepararli per ottenere nella loro fiorente umanità la felicità il possesso di beni materiali il denaro e il tempo libero verso una quasi illimitata libertà nella scelta dei piaceri così adesso chi mai rinuncerebbe a tutto questo e per quali motivi rischiare la propria preziosa vita in difesa del bene comune soprattutto nel caso in cui la sicurezza delle nazioni debba essere difesa in una terra lontana la biologia inoltre ci insegna che un elevato livello di benessere abituale non porta vantaggi a un organismo vivente oggi il benessere nella vita della società occidentale ha cominciato a togliersi da sua pericolosa maschera vita legalistica la società occidentale ha scelto per sé la migliore organizzazione possibile per le sue finalità che io chiamo legalistica i limiti dei diritti umani sono determinati da un sistema di leggi tali limiti sono molto ampi alcune persone in occidente hanno acquisito notevole abilità nell'utilizzo, interpretazione e manipolazione del diritto anche se le leggi per una persona media tendono ad essere troppo complicate da comprendere senza l'aiuto di un esperto ogni conflitto è risolto in base alla legge e questa è considerata la soluzione definitiva se uno è di destra da un punto di vista giuridico nulla è più necessario e nessuno ricorda che ci potrebbe ancora non essere una perfetta verità e ragione sollecitando autodisciplina o una rinuncia a tali diritti da considerare come sacrificio e rischio altruistico questo sarebbe semplicemente assurdo è quasi inconcepibile pensare ad una autodisciplina volontaria tutti si sforzano di ottenere una sempre più grande estensione dei propri diritti fino al limite estremo degli elementi giuridici una compagnia petrolifera è giuridicamente colpevole se acquista un'invenzione di un nuovo tipo di energia al fine di evitare l'uso un produttore di prodotti alimentari è giuridicamente colpevole quando avvelena la sua produzione per farla durare più a lungo dopo tutto si pensa le persone sono libere di non acquistarlo ho trascorso tutta la mia vita sotto un regime comunista e vi dirò che una società senza alcun obiettivo o riferimento giuridico è una terribile realtà infatti una società senza elementi giuridici è indegna umanamente ma una società basata alla lettera sulla legge non permette di raggiungere traguardi elevati e non riesce a sfruttare l'intera gamma delle possibilità umane la legge applicata alla lettera è troppo fredda e formale e non può avere un influsso benefico sulla società se il tessuto della vita è un tessuto di relazioni legalistiche si crea un'atmosfera di mediocrità spirituale che paralizza gli impulsi più nobili dell'uomo e sarà semplicemente impossibile tenere il passo con le sperimentazioni di questo secolo con nient'altro che il supporto di una struttura legalistica minacciosa la direzione della libertà la società occidentale ha rivelato la diseguaglianza nella libertà identificando i fatti buoni e i fatti non buoni ha uno statista che vuole realizzare qualcosa di importante e altamente costruttivo per il suo paese con cautela e perfino timidamente migliaia di critici si riferiscono a lui costantemente ed egli è snobbato dal Parlamento e dalla stampa deve dimostrare che ogni suo passo è fondato e assolutamente impeccabile è normale che una persona eccezionale davvero grande con iniziative insolite e impreviste non abbia la possibilità di realizzarle decine di trappole vengono disseminate per lui fin da subito così anche in politica la mediocrità trionfa con il pretesto di necessarie restrizioni democratiche è impossibile ai facili ovunque minare il potere amministrativo e questo in realtà è stato drasticamente indebolito in tutti i paesi occidentali la difesa dei diritti individuali ha raggiunto estremi tali da rendere la società come un intero sistema in difesa di alcuni individui è giunto il momento in occidente di difendere i diritti dell'uomo come obblighi dell'uomo in effetti alla libertà distruttiva e irresponsabile è stato concesso spazio infinito la società ha rivelato di avere una scarsa difesa contro l'abisso della decadenza umana per esempio contro l'abuso della libertà e della violenza morale nei confronti dei giovani con immagini pieni di pornografia criminalità e orrore si ritiene invece di essere in questo dalla parte della libertà e in teoria si pensa di essere controbilanciati dalla volontà dei giovani che possono in teoria non guardare e non accettare organizzata in modo così legalistico la vita ha dimostrato l'incapacità di difendersi dalla corrosione del male e cosa diciamo delle palesi punibilità i limiti legali specialmente negli Stati Uniti sono abbastanza ampi da incoraggiare non solo la libertà individuale ma anche qualche abuso di tale libertà il colpevole può restare impunito e ottenere clemenza immeritata tutto con il sostegno di migliaia di difensori nella società quando un governo si impegna seriamente a sradicare il terrorismo l'opinione pubblica immediatamente accusa la violazione dei diritti civili dai terroristi esiste un certo numero di questi casi questa inclinazione della libertà verso il male è avvenuta gradualmente ma evidentemente deriva da una concezione umanistica e benevola secondo cui l'uomo il comandante di questo mondo non reca alcun male nello stesso e secondo cui tutti i difetti della vita sono causati da imperfetti sistemi sociali che pertanto devono essere corretti stranamente nonostante le migliori condizioni sociali siano state raggiunte in occidente ci sono ancora grandi crimini ma ancora di più nella società sovietica bisognosa e senza leggi esiste una moltitudine di prigionieri nei nostri campi che vengono definiti criminali la maggior parte di essi non hanno mai commesso alcun reato cercando solo di difendersi contro uno stato senza legge ricorrendo a mezzi al di fuori del quadro giuridico la tendenza della stampa la stampa e tutti i media godono naturalmente della più ampia libertà ma questa a che cosa serve ancora una volta la loro principale preoccupazione consiste nel non violare la legge non c'è nessuna vera responsabilità morale che tipo di responsabilità ha un giornalista o un giornale per il lettore o per la storia se hanno tratto in inganno l'opinione pubblica con informazioni inesatte o conclusioni sbagliate e anche se hanno contribuito a errori nel loro ambito sociale conosciamo casi di pentimento e dispiacere apertamente espressi da un giornalista o da un giornale no perché questo danneggerebbe le vendite una nazione può diventare peggiore a causa di tali errori ma il giornalista ottiene sempre di restare impunito è anche probabile che egli possa iniziare a scrivere l'esatto opposto rispetto alle sue precedenti dichiarazioni con rinnovata intensità poiché sono sempre necessarie informazioni immediate e credibili diventa necessario per un giornalista attingere a supposizioni a incognite a chiacchiere per riempire lo spazio e non potrà mai essere confutato dopo essere entrato nella memoria dei lettori quante notizie affrettate immature superficiali e fuorvianti sono espresse ogni giorno confondendo i lettori senza che siano confutate la stampa può avere il ruolo di educazione o diseducazione nell'opinione pubblica così è possibile sostenere i terroristi rendendoli eroi pubblicamente rivelare segreti di stato realizzare spudrate intrusioni nella privacy delle persone note secondo lo slogan tutti hanno il diritto di sapere tutto ma questo è un falso è infatti maggiore il valore che deriva dal diritto di un popolo di non sapere e di non riempire le loro anime di pettegolezzi sciocchezze discorsi vani una persona che lavora e conduce una vita significativa non ha bisogno di questo flusso di informazioni eccessive e menzognere la superficialità è una malattia del ventesimo secolo e più che altrove si è manifestata nel giornalismo un'analisi approfondita di un problema è anatema per la stampa è contrario alla sua natura la stampa adotta solo formule sensazionali tuttavia la stampa e i media sono diventati il maggior potere all'interno dei paesi occidentali superiore a quella del potere legislativo esecutivo e magistratura eppure vorrei chiedere secondo quale legge un giornalista è stato eletto e nei confronti di chi è responsabile nell'oriente comunista un giornalista è nominato da un ufficiale di stato ma chi ha mai nominato i giornalisti occidentali nella loro posizione di potere per quanto tempo e con quali prerogative c'è ancora un'altra sorpresa per chi proviene dall'est totalitario con la stampa rigorosamente unificata si scoprono all'interno della stampa occidentale tendenze comuni generate da preferenze come se vi fosse un complesso quale spirito del tempo generalmente accettato quale modello derivato anche da interessi di imprese con l'effetto che non può esserci più vera libera concorrenza ma in realtà unificazione la più ampia libertà esiste dunque per la stampa ma non per i lettori perché i mezzi di comunicazione trasmettono spesso in modo forzato e deciso le loro opinioni quasi sempre senza contradditorio la moda del pensiero senza alcuna censura in occidente le tendenze ai pensieri di moda sono scrupolosamente separate da quelle che non sono di moda e questi pur senza essere vietati hanno scarse possibilità di trovare vita nella stampa nei libri o anche di essere in generale considerate in occidente gli studiosi sono liberi in senso giuridico ma sono accerchiati e condizionati da idoli prevalentemente dettati dalla moda non c'è alcuna palese violenza come in oriente tuttavia una scelta condizionata dalla moda e la necessità di soddisfare gli standard di massa spesso impediscono che le persone più innovative e indipendenti possano contribuire alla vita pubblica generandosi in tal modo pericolose mandrie mosse da istinti che bloccano uno sviluppo solido e reale in america ho ricevuto lettere da persone molto intelligenti come ad esempio da un insegnante di un collegio in un piccolo paese lontano che potrebbe fare molto per rimodernare e salvare così il suo paese questi fatti generano forti pregiudizi di massa ottenendo una cecità pericolosa soprattutto nella nostra epoca in rapida evoluzione nel mondo contemporaneo a ben guardare c'è come un'armatura pietrificata intorno alla mente delle persone che spesso impedisce lo sviluppo di nuove idee essa può essere rotta soltanto dal rompighiaccio inesorabile generato dagli eventi ho citato alcuni tratti di vita occidentale che sorprendono arrivando in questo mondo lo scopo di questo discorso non mi permetterà adesso di continuare questa analisi in particolare per valutare l'impatto di questi elementi su aspetti importanti della vita della nazione come l'istruzione elementare e l'istruzione avanzata nelle scienze umane e nell'arte socialismo quasi universalmente è riconosciuto che l'occidente dimostra a tutto il mondo le modalità per ottenere uno sviluppo economico di successo anche se negli ultimi anni questo è stato bruscamente frenato dall'inflazione tuttavia molte persone che vivono in occidente sono insoddisfatte della loro società disprezzandola e accusandola di non essere non più a un livello di umana maturità e questo fa sì che molti propendano verso il socialismo corrente falsa e pericolosa mi auguro che nessuno dei presenti pensi che io voglio esprimere una critica parziale del sistema occidentale al fine di suggerire il socialismo come alternativa no con l'esperienza di un paese dove è stato realizzato il socialismo sicuramente non proporrò questa alternativa il matematico Igor Sharfarevich membro dell'accademia sovietica della scienza ha scritto un libro brillantemente argomentato intitolato socialismo si tratta di una curata analisi storica che dimostra come il socialismo di qualsiasi tipo e le sue deviazioni e le sue derivazioni producano una totale distruzione dello spirito umano e un livellamento dell'umanità fino alla sua morte il libro del Sharfarevich è stato pubblicato in Francia quasi due anni fa e finora nessuno è riuscito a confutarlo tra breve sarà pubblicato in inglese negli Stati Uniti l'occidente non è un modello ma se mi chiedono se propongo l'occidente come oggi come modello per il mio paese francamente rispondo negativamente no io non posso raccomandare questa società come ideale per la trasformazione della nostra attraverso una profonda sofferenza le persone del nostro paese hanno raggiunto uno sviluppo spirituale di una tale intensità per la quale il sistema occidentale nel suo attuale stato di esaurimento spirituale non è attraente alcune caratteristiche della vita occidentale che ho considerato sono estremamente tristi un fatto che non può essere contestato è l'indebolimento della personalità umana in occidente mentre in oriente è diventata più ferma e più forte in molti decenni siamo passati attraverso la formazione spirituale molto in anticipo rispetto all'esperienza occidentale contrasti e conflitti spesso mortali hanno prodotto personalità più forti più profonde e più interessanti di quelle generate dagli standard del benessere occidentale pertanto se la nostra società potesse trasformarsi nella vostra questo significherebbe un miglioramento di certi aspetti ma anche un cambiamento in peggio di alcuni punti particolarmente significativi naturalmente la società non può rimanere chiusa in un abisso di illegalità come avviene nel nostro paese ma è anche degradante restare su un piano sociale senza anima e preda del legalismo come avviene nel vostro dopo una sofferenza di decenni di violenze e oppressioni l'anima umana desidera cose più elevate più calde e trasparenti rispetto a quelle offerte delle abitudini di massa della vita odierna introdotte da un'invasione rivoltante di pubblicità commerciale da stupidi spettacoli tv e da musica intollerabile tutto ciò è visibile per i numerosi osservatori provenienti da tutte le nazioni del nostro pianeta il modo di vita occidentale ha le minori probabilità di diventare un modello leader vi sono sintomi da cui si può vedere come una società si è in decadimento quali ad esempio il declino delle arti o la mancanza di grandi statisti a volte i segnali sono molto espliciti e concreti ad esempio se un paese resta senza energia elettrica per poche ore e all'improvviso una folla di cittadini americani produce saccheggi e devastazioni la superficie sociale appare molto debole e il sistema sociale instabile e malsano ma il conflitto materiale e spirituale nel nostro pianeta è un conflitto di proporzioni cosmiche e non una vaga questione nel futuro esso è già iniziato le forze del male hanno iniziato la loro offensiva decisiva si può sentire la loro pressione eppure gli spettacoli sugli schermi e le pubblicazioni sono piene di sorrisi costruiti e la gente si è tolta gli occhiali dov'è la felicità? miopia conosco molto bene alcuni rappresentanti della vostra società come George Kennan che dice noi non possiamo applicare criteri morali alla politica così abbiamo mescolato il bene e il male il giusto e lo sbagliato e carichiamo così lo spazio per il trionfo del male assoluto nel mondo solo i criteri morali possono aiutare l'occidente a combattere contro la strategia ben pianificata del mondo comunista non vi sono altri criteri considerazioni pratiche o occasionali di qualsiasi tipo saranno inevitabilmente spazzate via dopo un certo livello la mentalità legalistica induce paralisi e impedisce di vedere la scala dei valori e il significato degli eventi prescindendo dall'abbondanza di informazioni o forse in parte a causa di esse l'occidente ha grandi difficoltà nel trovare relazioni tra eventi in contemporanea ci sono state stime ingenue da parte di alcuni esperti americani che credevano che l'Angola sarebbe diventata il Vietnam dell'Unione Sovietica o che le arroganti spedizioni cubane in Africa sarebbero state fermate da speciali atti di cortesia USA a Cuba i consigli di Cannon al suo paese per iniziare un disarmo unilaterale appartengono alla stessa categoria se solo avesse saputo come reagire il più giovane dei funzionari in piazza vecchia di Mosca alle mosse politiche e vedendo Fidel Castro apertamente disprezzare gli Stati Uniti con coraggio fossero state inviate truppe mercenarie ben lontane dalla sua destra politica tuttavia l'errore più crudele si è verificato nell'incapacità di comprendere la guerra del Vietnam qualcuno ha voluto le guerre per poi poterle arrestare al più presto altri credevano che le decisioni dovessero essere lasciate all'autodeterminazione nazionale o comunista in Vietnam o in Cambogia come la vediamo oggi con particolare chiarezza ma in realtà i membri del movimento anti-war divennero complici del tradimento delle nazioni dell'estremo oriente del genocidio e delle sofferenze imposte a 30 milioni di persone questi convinti pacifisti sanno ascoltare ora la voce proveniente da quei luoghi capiscono oggi la loro responsabilità o preferiscono non ascoltare l'intelligenza americana ha perso il suo carattere e di conseguenza il pericolo è giunto molto più vicino agli Stati Uniti ma non c'è di questo fatto alcuna consapevolezza il politico mio perché ha firmato la capitolazione affrettata del Vietnam apparentemente portò in America una pausa di respiro e dispensieratezza tuttavia il Vietnam ora incombe su di lei vi erano stati avvertimenti e occasione per mobilitare il coraggio della nazione ma se l'America ha subito una sconfitta completa per mano di un piccolo paese metà comunista come può l'Occidente sperare di rimanere integro in futuro ho detto in un'altra occasione che la democrazia occidentale del ventesimo secolo non ha vinto alcuna grande guerra ogni volta essa stessa si è fatta scudo di un alleato in possesso di un potente esercito di terra la cui filosofia non ha creato problemi nella seconda guerra mondiale contro Hitler invece di vincere il conflitto con le proprie forze che sarebbero certamente state sufficienti la democrazia occidentale ha sollevato un altro nemico che poteva rivelarsi peggiore e più potente dato che Hitler non aveva né le risorse né il popolo completamente dalla sua né le idee a cui attingere né un gran numero di sostenitori in Occidente come una quinta colonna l'Unione Sovietica lo ha dimostrato alcune voci occidentali avevano parlato della necessità di uno schermo protettivo contro le forze ostili nel conflitto mondiale in questo caso lo scudo sarebbe stato cinese ma non vorrei tale risultato in un qualsiasi paese del mondo prima di tutto è ancora una volta un'alleanza condannata dal male gli Stati Uniti potrebbero concedere una tregua ma quando in un'epoca successiva la Cina con il suo miliardo e più di persone diventasse una potenza armata con armi americane l'America stessa diventerebbe vittima di un genocidio stile Cambogia la perdita della volontà ormai non è possibile aiutare l'Occidente fino a quando non sarà recuperata la sua forza di volontà in uno stato di debolezza psicologica le stesse armi diventano un peso e portano alla capitolazione per difendere se stesso un uomo deve essere anche pronto a morire non c'è tale disponibilità in una società che ha chiarato il culto del benessere materiale la debolezza psicologica porta in politica a concessioni a tentativi di guadagnare tempo e al tradimento così alla vergognosa conferenza di Belgrado liberi diplomatici occidentali nella loro debolezza non producono una linea di difesa per i membri del gruppo Helsinki Watch che sono disposti a sacrificare la loro vita il pensiero occidentale è diventato conservatore la situazione mondiale deve rimanere com'è ad ogni costo non deve esserci alcuna modifica questo segno di uno status quo debilitante è il sintomo di una società che ha cessato di svilupparsi bisogna essere ciechi per non vedere che gli oceani non apportengono più all'occidente mentre la terra sotto il suo dominio si restringe le due cosiddette guerre mondiali non erano ancora mondiali riflettevano l'autodistruzione progressiva dell'occidente che ha preparato così la propria fine la prossima guerra che non deve essere atomica potrà seppellire per sempre la civiltà occidentale a fronte di un tale pericolo con tali valori storici nel passato con tale elevato livello di libertà raggiunto e a quanto pare di devozione com'è possibile perdere a tal punto la volontà di difendere se stessi umanesimo e conseguenze com'è stato possibile arrivare a creare questo sfavorevole rapporto di forze com'è stato possibile per l'occidente passare dalla sua marcia trionfale al suo attuale stato di debilitazione sono stati fatali i cambiamenti e la perdita di obiettivi nel suo sviluppo non sembra così l'occidente è avanzato costantemente in conformità con le sue intenzioni sociali proclamate e con un progressivo brillante progresso nella tecnologia e all'improvviso si è trovato nel suo stato attuale di debolezza ciò significa che l'errore deve essere stato alla radice al fondamento del suo pensiero nei tempi moderni mi riferisco alla visione occidentale prevalente nata nel rinascimento e che ha trovato espressione politica dopo l'età dell'illuminismo essa divenne la base per la dottrina politica e sociale che potrebbe essere chiamata umanesimo razionalista o autonomia umanistica l'autonomia dell'uomo da qualsiasi forza superiore al di sopra di lui proclamata e praticata si potrebbe anche chiamare antropocentrismo con l'uomo visto come il centro di tutto quanto è stato introdotto dal rinascimento era storicamente e probabilmente inevitabile il medioevo era giunto a una fine naturale per suo esaurimento essendo diventato un'intollerabile repressione dispotica e di natura fisica dell'uomo in favore della natura spirituale poi come reazione allontanandosi dallo spirito e abbracciando tutto ciò che è immateriale eccessivamente e incommensurabilmente il modo umanistico di pensare che aveva proclamato l'uomo come sua stessa guida non ha ammesso l'esistenza intrinseca del male nell'uomo né ha saputo rivolgersi a un pensiero spirituale superiore per ottenere la felicità anche sulla terra è iniziata la civiltà occidentale moderna con la pericolosa tendenza dell'uomo rivolto esclusivamente a soddisfare le sue necessità materiali tutto per il benessere fisico e per accumulare beni materiali mentre tutti gli altri aspetti umani e caratteri naturali non visibili e superiori sono rimasti al di fuori dell'attenzione dello stato e dei sistemi sociali come se la vita umana non avesse alcun significato superiore così molti spazi sono rimasti aperti per il male che può agire liberamente anche oggi la semplice libertà non risolve tutti i problemi della vita umana e anzi ne aggiunge un gran numero di nuovi nelle democrazie giovani come nella democrazia americana al momento della sua nascita tutti i diritti umani individuali sono stati concessi considerando che l'uomo è creatura di dio la libertà era per l'individuo data in modo condizionato al presupposto della sua responsabilità religiosa costante questo era il patrimonio dei mille anni precedenti duecento addirittura solo cinquant'anni fa questo sarebbe sembrato assolutamente impossibile in america a un individuo sono concesse libertà infinite con nessun fine semplicemente per la soddisfazione dei suoi capricci successivamente tali limitazioni sono state erose ovunque in occidente si è verificata una totale emancipazione dal patrimonio morale dei secoli cristiani con le loro grandi riserve di misericordia e di sacrificio i sistemi statali sono diventati sempre più materialistici l'occidente ha finalmente ottenuto i diritti dell'uomo anche in eccesso ma senza il senso per l'uomo della responsabilità di fronte a dio e la società è così cresciuta nella negatività e diventa sempre più negativa negli ultimi decenni l'egoismo legalistico dell'approccio al mondo in occidente ha raggiunto l'apice e il mondo si è trovato in una dura crisi spirituale e in un'unpass politica tutte le conquiste tecnologiche celebrate dal progresso compresa la conquista dello spazio esterno non hanno riscattato la povertà morale del ventesimo secolo come nessuno nel diciannovesimo secolo avrebbe potuto immaginare un'imprevista parentela poiché l'umanesimo nel suo sviluppo stava diventando sempre più materialistico così si è sempre più consentito che i suoi concetti siano stati utilizzati prima dal socialismo e poi dal comunismo in modo tale che Marx è stato in grado di dire nel 1844 che il comunismo è umanesimo naturalizzato questa dichiarazione ha anche dimostrato una non totale irragionevolezza si vedevano erose le pietre di base dell'umanesimo permettendo così l'avvento di un qualsiasi tipo di socialismo nel materialismo infinito la libertà di religione e la responsabilità religiosa nei regimi comunisti raggiunge la fase della dittatura antireligiosa la concentrazione in strutture sociali con un approccio il più possibile scientifico è tipico sia dell'età dell'illuminismo sia del marxismo non è un caso che tutti gli obiettivi del comunismo sono per l'uomo e per la sua felicità terrena a prima vista sembra un brutto parallelo vedere tratti comuni nella mentalità e stile di vita dell'occidente odierna e dell'oriente d'oggi ma tale è la logica dello sviluppo materialistico l'interrelazione è tale per cui la corrente del materialismo che è più lontana a sinistra e quindi più coerente si dimostra sempre essere più forte più attraente e vittoriosa l'umanesimo che ha perso la sua eredità cristiana non può prevalere in questa competizione così nel corso dei secoli passati e soprattutto negli ultimi decenni dato che il processo è divenuto più acuto lo sviluppo delle forze è stato così il liberalismo inevitabilmente messo in disparte dal radicalismo dovete poi arrendersi al socialismo che a sua volta non poteva resistere al comunismo il regime comunista in oriente potrebbe crescere a causa di un entusiastico sostegno da parte di un numero enorme di intellettuali occidentali che tra la parentela si è rifiutata di vedere i crimini del comunismo e quando questo non era possibile hanno cercato di giustificarli il problema persiste nei nostri paesi dell'est il comunismo ha subito una sconfitta ideologica completa è pari a zero e meno di zero e gli intellettuali occidentali ancora esaminano la questione con notevole interesse ed empatia e proprio questo è ciò che rende così immensamente difficile per l'occidente resistere a est il cammino per l'uomo io non sto esaminando il caso di un disastro analizzando una guerra mondiale e le modifiche che questa produce nella società ma poiché vorremmo svegliarsi ogni mattina sotto il sole della pace dobbiamo pensare a come realizzare la nostra vita quotidiana eppure esiste già un disastro mi riferisco alla catastrofe generata da una autonoma e religiosa coscienza umanistica è l'uomo che decide la misura di tutte le cose sulla terra l'uomo imperfetto che non è mai privo di orgoglio egoismo invidia vanità e decine di altri difetti ora stiamo pagando gli errori che non sono stati correttamente valutati all'inizio nel cammino dal rinascimento fino ai giorni nostri abbiamo arricchito la nostra esperienza ma abbiamo perso il concetto di un'entità completa suprema da ascoltare per porre limiti alle nostre passioni e alla nostra irresponsabilità abbiamo avuto troppa fiducia nella politica e nelle riforme sociali per poi scoprire che ci stavamo privando del possesso del nostro bene più prezioso la nostra vita spirituale questa è adesso calpestata dalla mafia e dai partiti in oriente e dalle attività commerciali in occidente in questo sta l'essenza della crisi la divisione del mondo è meno terribile se come sostiene l'umanesimo l'uomo è nato solo per essere felice egli non è nato per morire poiché il suo corpo è condannato a morte il suo compito sulla terra evidentemente deve essere più spirituale non un totale accapparramento di beni nella vita quotidiana non la ricerca di modi migliori per ottenere beni materiali e quindi non la spensieratezza con il loro consumo la vita deve invece essere il compito di una riflessione costante e seria in modo che il nostro viaggio nel tempo possa essere soprattutto un'esperienza di crescita morale per diventare esseri umani migliori questo è indispensabile per rivalutare la scala dei valori umani normali la loro attuale assenza è sbalorditiva non è possibile che la valutazione del lavoro di un presidente di uno stato sia ridotta alla questione relativa a quanti soldi io guadagno o alla disponibilità di benzina solo con l'educazione di noi stessi e l'autodisciplina liberamente accettata e serena l'umanità potrà risalire il flusso del materialismo e del suo mondo oggi sarebbe regressivo considerare le fossilizzate formule dell'illuminismo tali dogmatismi sociali ci condurrebbero ad essere indifesi di fronte alle prove dei nostri tempi anche se ci stiamo risparmiando la distruzione causata dalla guerra dovremmo trovare il modo di non rendere deperibile la nostra vita non possiamo evitare di riconsiderare gli elementi fondamentali della vita umana e della società è vero che l'uomo è al di sopra di tutto ciò non c'è nessuno spirito al di sopra di lui è giusto che la vita dell'uomo e delle attività sociali debbono essere governate soprattutto dall'espansione materiale è ammissibile promuovere tale espansione a scapito della nostra vita spirituale integrale se il mondo non è ancora vicino alla sua fine ha comunque raggiunto un punto di svolta importante nella storia di importanza pari alla svolta dal medioevo al rinascimento questa potrà esigere da noi una fiammata spirituale dovremmo salire all'altezza di una nuova visione per un nuovo livello di vita dove la nostra natura fisica potrà non essere maledetta come nel medioevo ma sarà ancora più importante il nostro livello spirituale nel quale non si potrà essere calpestati come nell'era moderna questa ascensione è come un'arrampicata antropologica nessuno sulla terra ha un altro modo a sinistra o a destra ma soltanto verso l'alto non si potrà essere non si potrà essere